C'è l'iPad, conoscete l'iPad, no? E dice, puoi leggere il giornale sulla tavoletta. Io sono 50 anni che lo leggo sulla tavoletta. Cioè, leggi bene sulla tavoletta, metti là. Ma sa quanto mi piace leggere sulla tavoletta. Ma sai, certe sere mi sono addormito una sera. Ti è mai successo addormito sulla tazza? Che qua nei svegli non sai più il senso del tuo stai, fa. Che se ti ve l'odore fa...